Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura all'emergenza coronavirus che arriva anche in Abruzzo con tre casi nel Terramano e nell'Aquilano che hanno fatto scattare i protocolli di emergenza dettati dal Ministero della Salute. Gli esperti però invitano a non creare allarmismi rispetto a questa epidemia che è partita dalla Cina e si sta espandendo un po' su tutto il pianeta. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. E' allarme coronavirus, la patologia che in Cina ha già ucciso oltre 200 persone su quasi decimila contagi. Il virus è giunto anche in Italia, due turisti cinesi a Roma sono risultati positivi e ora ci sono dei casi sospetti anche in Abruzzo. Qui a Pescara abbiamo una decina di persone in sorveglianza domiciliare cautelativa, sta andando tutto bene, nessun caso sospetto, nessun rischio per la popolazione. A Teramo per ragioni diverse i due pazienti sono stati ricoverati prudenzialmente però anche loro stanno andando bene tant'è che non è stato mandato nulla all'Istituto Superiore di Sanità ancora perché il quadro clinico non ne giustifica la valutazione. All'Aquila trattandosi di un paziente pediatrico c'è stata davvero un'attenzione, uno zelo particolare e quindi i campioni sono stati avviati pure in una condizione di basso profilo di rischio epidemiologico e comunque siamo in serena attesa delle risposte. Così inizia a diffondersi la psicosi anche nella nostra regione, ma c'è davvero da avere paura? È che la nostra popolazione è veramente protetta in questo momento, lo dico con orgoglio perché da una parte, a differenza di quello che tanti dicono con delle dietrologie su questa situazione e io sono invece contento di vedere che c'è stata una collaborazione internazionale eccezionale. In 15 giorni abbiamo avuto la sequenza del nuovo virus in tutto il mondo, cosa che non è mai successo prima, anche per la SARS ci abbiamo messo molto più tempo. Quindi abbiamo una condizione di allerta, ripeto, non di allarme, che è stata innescata correttamente e che sta dando i suoi frutti. Ma cosa può fare un cittadino comune individualmente per tutelarsi? Questa è la domanda più importante perché noi tutti abbiamo un ruolo da giocare in questo momento. Dobbiamo prevenire le infezioni respiratorie, cioè il modo migliore per ridurre il pabulum, ridurre il rischio che ci può portare una malattia respiratoria esotica e controllare al meglio le malattie respiratorie locali. Quindi la prima cosa, lavarsi le mani, non ossessivamente ma frequentemente. Seconda cosa, se tossisco o starnutisco, i nostri nonni ce lo dicevano, non mettere la mano è scostumatezza, l'OMS ci ha detto la stessa cosa negli ultimi anni, la CAF etichetta, la buona gestione della tosse è fondamentale per ridurre le infezioni respiratorie. La terza cosa, non è troppo tardi per vaccinarsi. Quindi queste tre cose le possiamo fare tutte e le dobbiamo fare tutti. Il tasso di mortalità del virus si aggira intorno al 2%, ma intanto negozi e ristoranti cinesi sono i primi a subire questa situazione a causa del pregiudizio che spesso sfocia in xenofobia. Da quando è scoppiato il caso mediatico, nelle attività cinesi vi è penuria di clienti. Alcuni commercianti dicono di aver riscontrato addirittura l'80% in meno di utenti, ma acquistare merce made in China o mangiare i pietanze cinesi non rappresenta nessun rischio per la salute. Andiamo avanti ora. Il Forum dell'Acqua Abruzzo ha presentato una richiesta di accesso agli atti per capire quali siano gli interventi da adottare per risolvere le problematiche del viadotto Cerrano sulla A14 al centro dell'emergenza traffico sulla statale 16 fra Pineto e Montesilvano negli ultimi due mesi. Intanto questa notte il ponte sarà nuovamente chiuso per lavori. Vediamo. Il Forum Abruzzese dell'Acqua ha presentato una richiesta di accesso agli atti presso la Prefettura di Teramo e al Ministero dei Trasporti per capire cosa si stia facendo, con quale obiettivo, con che mezzi e in che tempi rispetto alle criticità riscontrate sul viadotto Cerrano della A14 da poco dissequestrato dalla Procura di Avellino. Il Forum dell'Acqua vuole anche capire come si intende affrontare nel medio e nel lungo periodo la situazione della frana che incombe su una delle più importanti infrastrutture italiane visto che le carte della regione evidenziano l'estensione dei movimenti franosi nell'area circostante l'Epide. Intanto, sottolinea in un comunicato il Forum dell'Acqua, da qualche giorno si sta finalmente lavorando alla cremente sulla pila 1 del viadotto Cerrano come dimostrerebbero le immagini raccolte ieri dagli ambientalisti in cui si vedono lavori di perforazione per quello che sembra il posizionamento di micropalli di consolidamento. Questa notte e fino alle 5 di domani il viadotto sarà chiuso nuovamente per consentire alcuni lavori e dovrebbero essere anche installati i sensori profondi per i monitoraggi completi richiesti dagli ingegneri del Ministero in aggiunta a quelli già esistenti. Vogliamo sottolineare, continua il Forum dell'Acqua, che sulle barriere New Jersey lo Stato fin dal 2015 ha individuato il problema nell'irregolare procedura di sostituzione degli ancoraggi censurabile anche secondo la Procura di Avellino. Una querel che ha portato via 5 anni con ben due pronunciamenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ma con sostituzioni secondo le richieste del MIT che ancora a giugno del 2019 a leggere il decreto del GIP di Avellino, Autostrade avrebbe respinto. Quello che manca, conclude l'Associazione Ambientalista, è una riflessione profonda sul reale stato delle infrastrutture del Paese dove si continuano a prospettare grandi nuovi interventi senza garantire la manutenzione dell'esistente. E sul nuovo, invece di pensare a terze corsie, continua ancora il Forum dell'Acqua Abruzzo, bisognerebbe investire eventuali danari pubblici nel trasferire il trasporto delle merci su rotaia. Prevenire gli incidenti stradali attraverso la formazione culturale dei ragazzi già a partire dalle scuole primarie. L'Acci Abruzzo scende in campo per tentare attraverso la leva formativa di invertire la tendenza che vede un aumento delle morti sulla strada. Vediamo il servizio. Se da un lato negli ultimi anni sono aumentati i presidi di sicurezza all'interno delle automobili sempre più tecnologiche, ciò non basta limitare il numero delle vittime di incidenti stradali, almeno in Italia. Aumenta, infatti, il numero dei morti sulla strada, soprattutto tra i neopatentati, cioè i più giovani. Come riportano le statistiche ACI Stat, solo nel primo semestre del 2019, infatti, si sono verificati 82.048 incidenti stradali, in media 453 al giorno, 19 ogni ora, che hanno causato 1.505 morti, 8 al giorno, 1 ogni 3 ore, e 113.765 feriti, 628 al giorno, 26 ogni ora. Dati questi che ci allontanano dall'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime della strada entro quest'anno. Il pericolo maggiore corre sulle autostrade, dove si è verificato un aumento di oltre il 25% dei decessi, nonostante l'installazione dei tutor. Seguono le strade extraurbane, più 0,3%, per quelle urbane, invece, si stima una diminuzione di circa il 3%. Mentre si discute dell'aumento del limite della velocità autostradale a 150 orari, solo in alcuni tratti ad esclusione dei neopatentati, l'eccesso di velocità resta l'infrazione più comune, seguito dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dall'uso del cellulare. L'Abruzzo non fa eccezione rispetto ai dati nazionali, per questo l'ACI sta mettendo in atto campagne di informazione e formazione che partono già dai ragazzi delle elementari. Siamo perfettamente d'accordo che per i neopatentati non bisogna mai alzare il limite di velocità, ma soprattutto, e questo significa prevenzione secondaria, ma ripeto, è fondamentale far sì che questi ragazzi vengano continuamente informati e soprattutto formati nella sicurezza. Ovviamente noi, come ha visto in queste giornate qui al Centro Universo di Silvi, stiamo parlando di sicurezza sulla strada, ma di sicurezza in senso lato, perché deve diventare una cultura. Se noi facciamo prevenzione praticamente a 360 gradi, possiamo evitare errori, non solo nella sicurezza sulla strada, ma errori di vita. E quindi è una formazione che per noi è fondamentale, per i ragazzi, a partire dalle prime classi delle elementari. Cambiamo argomento. Sono iniziati a Torino di Sangro i lavori di rinforzo dei frangiflutti di Borgata Marina, con la spiaggia gravemente danneggiata dalla mareggiata dello scorso novembre. L'intervento di somma urgenza è finanziato da Regione Abruzzo. Vediamo il servizio. Almeno una parziale soddisfazione per Torino di Sangro, che da anni lamenta un'erosione costiera implacabile, che distrugge consuma, condiziona la vocazione turistico balneare della località. Da metà gennaio sono infatti iniziati i lavori di rinforzo dei frangiflutti davanti al Viale Costa Verde, in località Borgata Marina, con la spiaggia e alcune strutture balneari gravemente danneggiate dalla mareggiata del 12 e del 13 novembre scorsi. In due giorni i flutti divorarono gran parte del litorale nord, con allagamenti e onde che arrivarono sin sulla strada. La richiesta del sindaco Nino Difonso di porre parziale difesa al litorale è stata accolta dalla Regione, che per somma urgenza ha finanziato un intervento di 200 mila euro. I lavori affidati alla società In Mare di Termoli prevedono il rinforzo di quattro barriere frangiflutti a nord e la chiusura del varco marino tra la quarta e la quinta scogliera, per evitare l'ingresso delle correnti marine che arrivavano a lambire con le onde anche le abitazioni. Resta da risolvere però la questione più critica, quella di Contrada Lago Dragoni, dove chilometri di tracciato sono franati in mare. Il comune di Torino di Sangro ha un milione e duecento mila euro a disposizione di fondi cipe per realizzare due pennelli e una barriera sommersa a difesa anche della statale 16. Restano scoperti però centinaia di metri di litorale a sud. L'emergenza insomma continua. Andiamo nella Marsica dove è stato siglato il protocollo d'intesa per rendere attivo il reddito di cittadinanza attraverso dei tirocini formativi nelle aziende convenzionate. Il progetto è pilota in Abruzzo ed è terzo in Italia. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. Per aiutare concretamente e tendere una mano come si deve, prospettando qualcosa di più dell'inflazionato, le faremo sapere. Questa mattina nella sala conferenze della comunità montagna marzicana è stato siglato il primo protocollo d'intesa in regione Abruzzo che fa dialogare tra di loro cittadini in difficoltà economica, percipienti il reddito di cittadinanza e tirocini per prospettive di lavoro a lungo termine. Protocollo unico in Abruzzo e ci sono pochi in Italia. Questo è uno strumento in realtà ideato dentro questa comunità montana. L'idea è stata un po' della nostra responsabile, Sabrina Frezza, responsabile del servizio, che ha lanciato questa idea, noi l'abbiamo raccolta e oggi siamo proprio alla firma del protocollo d'intesa. Cosa c'è all'interno di questo protocollo d'intesa? Le mille famiglie della Marsia che percepiscono il reddito di cittadinanza hanno la possibilità di fare inclusione e formazione lavorativa. Non più un reddito di cittadinanza puramente assistenzialistico, ma un qualcosa in più. È la comunità montana, montagna marsicana, farsi promotrice del progetto, terzo per sua natura e vocazione in Italia. Quali sono le associazioni di categoria del territorio che hanno detto sì a questo protocollo e quindi che hanno ovviamente risposto positivamente a tutto il progetto? Quasi tutte, la CIA, la Confagricoltura, Confindustria, Confesercendi, Confcommercio, Confartigianato e CNA. È un protocollo aperto, si firma oggi ma rimane aperto. Volevamo proporre uno strumento inclusivo al 100%. Per concludere mettiamoci dalla parte del tirocinante. Una volta che sarà concluso questo tirocinio? Una volta che sarà concluso questo tirocinio innanzitutto ha una formazione in più, ha un bagaglio culturale in più. L'azienda che lo ha ospitato si mette a sua disposizione per, diciamo, usare termini semplicistici, imparargli il mestiere e quindi si può rimettere sul mercato attraverso la sinergia che abbiamo con il centro per l'impiego per trovare magari una sistemazione lavorativa. A Lanciano sono durati quattro mesi i lavori di sgombero e disinfestazione dello storico palazzo napolitani Berenga. Il sindaco Pupillo vuole trasformarlo in una pinacoteca, in un museo. Vediamo il servizio. Libero dall'occupazione abusiva con lavori durati quattro mesi tra materiali da scartare e disinfestazione costati 30 mila euro, Palazzo Napolitani Berenga nella Lanciano storica è giacimento culturale della città. Così lo ha definito il sindaco Mario Pupillo nella visita guidata con la stampa e l'esperto Domenico Maria del Bello. che ha illustrato le caratteristiche storico-artistiche dell'antica dimora nobiliare. Il palazzo Napolitani Berenga è uno dei cento palazzi storici di Lanciano, ma è uno dei più grandi e dei più antichi ed era fino a qualche decennio fa anche uno dei meglio conservati perché fino agli anni Ottanta era rimasto ininterrottamente di proprietà degli eredi della famiglia Napolitani Berenga. Il palazzo si compone di oltre 60 stanze, quindi è praticamente quasi un castello, si sviluppa su quattro piani, ha negli interrati addirittura una cisterra per l'olio talmente grande che non poteva essere spezzonata a vista perché non sarebbe stata una cosa molto intelligente scendere con una fiamma in un luogo che era pieno d'olio e arriva poi su fino alla torretta Belvedere. Gran parte di queste sale sono decorate con delle pitture, non delle vere e proprie fresche, ma delle tempere che coprono un arco temporale di circa due secoli, quindi anche questo è un elemento di grande interesse, rappresenta un po' un campionario di decorazioni, un oggetto di studio per poter capire le modificazioni del gusto che comincia all'inizio dell'Ottocento con le sale più antiche e arriva fino al periodo Liberti. Sarebbe importante recuperare questo edificio che purtroppo all'inizio degli anni Novanti era stato destinato alla funzione di case parcheggio, per cui il primo intervento fu quello di eliminare i pavimenti antichi e le carte da parati che ancora rivestivano oltre una ventina di saloni. E sarebbe opportuno anche per recuperare un pezzo importante della storia della nostra città. Nelle intenzioni della Giunta Pupillo c'è quella di istituire la Pinacoteca della città, anche con nuove donazioni importanti di autori contemporanei e al piano terra il Museo della Resistenza e della Memoria. Il sindaco avverte che non mancherà lo spazio per la ristorazione come nei musei più moderni. Questa è la strada dei musei perché partiamo dalle torri montanare dove ovviamente c'è il Parco della Musica, poi c'è il Museo Diocesano, c'è il Museo Casasvoltore, il Museo di San Nicola e San Rocco e c'è questo spazio. A Teramo è stata presentata una monografia sullo scultore Giancarlo Ciannella. E' stata presentata oggi a Teramo alla monografia Giancarlo Ciannella, scultore di archetipi, che è parte integrante della mostra che è ancora in corso di svolgimento a Roma presso i mercati al Foro di Traiano. Ne parliamo con Giulia Ignazio che è una teramana, per lei un ritorno a Teramo, storico dell'arte e critica, e ha indagato il rapporto particolare, credo, tra Ciannella, tra un scultore e Romano Rocchi. Romano Rocchi e Ciannella che sono due figli di questa terra ancestrale, primordiale come l'Abruzzo e che hanno studiato entrambi all'Istituto d'Arte della Ceramica di Castelli. Entrambi quindi aperti anche per merito del direttore che in quegli anni era presente a Castelli, che è Serafino Mettucci, entrambi quindi aperti verso un'arte innovativa di ricerca e di sperimentazione. Questi due figli di una terra primordiale, ancestrale, di matristica memoria, e che mettono le mani entrambi nell'argilla, che è un materiale peraltro legato anche alla rigenerazione, nella fecondazione, in quanto la terra, comunque la ceramica, è un'arte prevalentemente alchemica, quindi segue un processo di trasformazione attraverso la sublimazione della materia, cioè un oggetto umile, scuro e opaco come l'ombra, come diceva Guido Gambone, un famoso smaiolicaro degli anni 50, diventa improvvisamente oggetto artistico. Ringrazio e mi complimento con Teramo Nostra, nella persona del Presidente Chiarini, che ha organizzato questo appuntamento, per dare il giusto tributo a Giancarlo Ciannella, un illustre figlio di Castelli, che ha nella sua opera radici ben salde nella tradizione di Castelli, però poi ha saputo evolvere e toccare concetti molto alti. E quindi in questi giorni noi celebriamo per l'appunto la mostra che sta avendo un grande successo ai mercati di Traiano e ci fa molto piacere che per l'appunto un figlio di Castelli, che purtroppo è venuto a mancare proprio fisicamente qualche anno fa, però che si sia facendo, che già negli anni si fa onore, non solo in Italia, ma anche nel panorama internazionale. Siamo arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di Serie B e dunque del Pescara. A poche ore dalla chiusura del calciomercato, il Presidente Daniele Sebastiani ha parlato ai nostri microfoni dei casi più spinosi, il mancato arrivo del centravanti e l'addio improvviso di Macin passato al Monza. Ascoltiamolo nell'intervista di Andrea Costantini. Cosa non è andato affinché arrivasse il nuovo centravanti? L'obiettivo dichiarato era di prendere un centravanti che avesse delle caratteristiche come volevamo noi e soprattutto che ci potesse far fare un salto di qualità. Il salto di qualità sul mercato te lo potevano far fare eventualmente in due, non si sono mossi, quindi è inutile prendere un centravanti per prendere un centravanti per aggiungerli agli altri due, perché gli altri due che abbiamo li consideriamo forti, quindi se prendevamo uno che sulla carta poteva essere più forte è un conto, ma prendere per prendere non serve a nulla. Per Melchiori e Iemello cosa non è andato per il verso giusto? Noi credo che abbiamo fatto un'offerta importante, forse al di là delle possibilità del Pescara, però è evidente che i giocatori hanno una proprietà e la proprietà decide, non ci mancherebbe, non hanno a un certo punto deciso di farli uscire, quindi non si è potuto fare, ma ognuno decide in casa sua. Poteva uscire anche Palmieri in questa trattativa? Nel modo più assoluto, perché ho sempre detto di no dall'inizio. Anche noi abbiamo ricevuto in questi giorni, io non ho detto niente a nessuno, perché ho dato subito il mio no immediato, abbiamo ricevuto delle offerte per Galano, ma Galano è evidente, è di mia proprietà, decido io che farci. Macin è un po' l'addio shock, lei l'abbiamo già ascoltata, ha parlato tra virgolette di scelta di cuore, ma facendo intendere che in realtà c'è un qualcosa di, diciamolo pure, economico sotto. Ma ci mancherebbe, scelta di cuore era una battuta evidente, si può pensare di tenere bloccato, io ancora non partivo nelle trattative, il ragazzo non c'era più a Pescara, quindi evidentemente è una scelta sicuramente non di cuore, però io lo capisco anche il ragazzo, se tu oggi guadagni 100 e te ne offrono 5 volte tanto e ti cambia la vita, probabilmente te ne freghi di Pescara, del Pescara, di Sebastiani e di tutto quanto il resto. Non c'era modo di opporsi facendo valere l'accordo di prestito stipulato a inizio stagione? Ma non c'era modo di opporsi perché la volontà del giocatore non era quella di tornare a Pescara, che è diversa da avere o non avere la possibilità di opporsi, il giocatore addirittura mi ha detto personalmente che avrebbe fatto un biglietto per andarsene a Madrid e quindi è evidente che a quel punto c'è poco da ragionare. I tifosi hanno mormorato, è stato esposto questo striscione sotto la curva nord che proprio questa mattina è stato fatto rimuovere, che messaggio vuole lanciare alla tifoseria che invece esprime questa preoccupazione? Preoccupazione di cosa? Fatemi capire che preoccupazioni c'è. Non sono contenti del mercato che è stato fatto. Il prossimo anno ci andranno loro a fare il mercato, facciamo prima così si renderanno conti innanzitutto di quelli che sono i vincoli per iscrivere una società a un campionato e poi magari saranno più bravi di me a fare il mercato. Io purtroppo non posso controbattere a chi non conosce, io se faccio il tifoso faccio il tifoso, se non conosco le regole del gioco faccio fatica a parlare. A proposito di Pescara, dopo la conferma di Nicola Legrottaglie sulla panchina della prima squadra dovrebbe essere Pasquale Catalano a guidare la primavera. L'ex calciatore nelle ultime stagioni ha guidato il Prato per poi sedere sulla panchina della primavera del Parma fino allo scorso giugno. Manca ancora l'ufficialità ma dunque sarà Catalano a guidare i giovani biancazzurri impegnati nel campionato di primavera 1 attualmente al 14esimo posto in classifica, quota 15 punti e che oggi se la vedranno con la Lazio nella giornata numero 17 del campionato. Ora la Serie C terminata la sessione invernale di calciomercato per il Teramo è di nuovo tempo di campionato. Ci sarà un rende falcidiato dalle assenze mentre in casa Biancorossa ancora un paio di ballottaggi per il tecnico Tedino che dunque dovrà sciogliere le riserve. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Chiuso il mercato senza botti in attacco per il Teramo domani è di nuovo campionato in una settimana standard che però per via delle ultime trattative standard non poteva per forza di cosa esserlo. Il diavolo dunque rimane così com'è e già domani Bruno Tedino dovrà trovare delle contromisure a quella sterilità offensiva che oggettivamente sta ancorando il diavolo al settimo posto in classifica ma con un solco amplissimo dalle prime. Bisognerà valorizzare Birrigea e soprattutto Minelli che ad inizio mercato sembrava poter lasciare la maglia biancorossa. Così non è stato ma con il rende davanti almeno in avvio ci sarà quella che ormai può essere definita la coppia titolare Bombaggi-Magnaghi. Il capo cannoniere della formazione biancorossa è un attaccante di fatto. L'intesa con la punta sembra funzionare bene ma è evidente che i gol non possono venire solo ed esclusivamente da lui. Il modulo sarà il 4-3-1-2. La difesa dovrebbe vedere Soprano e Cristini che rientra dopo la gara saltata per turnovera a Castellammare di Stabia con Cancellotti e Tentardini sulle corsie laterali. A centrocampo sarà ballottaggio tra Rigoni e Viero per il ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa mentre gli interni non dovrebbero subire variazioni. Ilari e Santoro giocheranno da mezziali con la prima linea che vedrà Costa Ferrera confermato nella posizione tra le linee ballottaggio probabile anche qui con Domenico Mungo e il duo già detto davanti. Nel Rende tanti out per scolifica a partire da Vivacqua e Libertazzi che di fatto sguarniranno la prima linea calabrese che anche per questo nell'ultimo giorno di mercato ha portato a casa tre nuovi elementi. Il primo è Gaetano Navas, centrocampista classe 1997. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Mantua in Serie D collezionando 14 presenze. In carriera ha militato con la Paganese, la Regina, l'Akragas, la Nocerina, il Grosseto, il Potenza e l'Arzanese collezionando 83 presenze tra Serie C e Serie D. In prestito dal Verona è arrivato anche Alexieis, centrocampista lettone classe 1999 che ha 19 presenze con la formazione primavera. A disposizione di mister Rigoni sarà anche il difensore Alessandro Negri, classe 2000. Il difensore Scuola Milan ha militato con la primavera rosso-nero. Ancora un passo indietro di categoria in Serie D. Oggi anticipa il Chieti contro il Matelica ad Ortona. Ci colleghiamo in diretta con Stefano Recanati che è sul campo per seguire la partita. A te Stefano per le ultime. Buon pomeriggio Alfredo, squadre che hanno fatto il loro ingresso in campo proprio in questi istanti. Andiamo subito a darvi le formazioni Chieti-Matelica che si affrontano oggi per lo stadio comunale di Ortona. Mister Grandoni con tanti problemi di formazione. Ricci, squalificato. Bugaletta e Dicilio, infortunati. Sarrizzo, febbrici, tanti. Solo Pantina per Traini. Allora schiera. Tano in porta. Poi linea difensiva con Fantauzzi, Meola, Chiocca e Bratelli. A centrocampo ci sono Energi, Favo, Bacigalubo e Palmitano. In avanti. Sivilla e Franchi. In panchina Bruno, Polletta, Di Renzo, Barbone, Milizia, Camara, Sammaciccia, Zacquacco e Traini. Come abbiamo detto in casa Amaterica. Tutti a disposizione per mister Colavito che stiene poi con il 4-3-3. In porta c'è Urbietis. In difesa c'è Visconti, De Santis, Peschi e Di Renzo. A centrocampo Moretti, Croce e Bugero. In avanti Moretti con Barbarossa e Lionetti. Abbiamo detto che l'allenatore è Gianluca Colavito. Arbiterà il signor Bottetto, Giorgio Di Bergamo. Gli assistenti sono Fratelli Federico Di Latina e Pasqualetto. Andrea Di Aprile. Partita molto importante per il Tieti che viene da due sconfitte pesanti. Amaterica che vuole restare agganciato al notaretto. Partita che inizierà a breve a voi. Grazie, grazie Stefano Recanati per questo collegamento. Naturalmente il servizio della partita ci sarà nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. A partire dalle ore 19. Noi invece nel prossimo servizio andiamo a vedere il resto del programma della prossima giornata di Serie D. Il risultato dell'anticipo del sabato tra Chieti e Matelica condizionerà in alto e in basso anche gli equilibri della giornata numero 22 in Serie D. Perché in vetta al Vincenzo Savini il notaresco capolista del raggruppamento ospita la Recanatese. Fino a qualche settimana fa si pensava che questa gara potesse essere decisiva per assegnare i primi due posti. Ma la parte finale del 2019 ha relegato i leopardiani ad una distanza dai rosso-blu troppo marcata per poter pensare di riaprire i giochi. L'inizio del girone di ritorno per la squadra di Giampaolo è stato discreto ma non eccezionale. In più le assenze tra i marchigiani saranno pesantissime. Borrelli è squalificato ma soprattutto un tendine infiammato toglierà dalla gara Manuel Pera. Vero pericolo per la retroguardia notareschina. Out anche Nodari. Insomma non male per la squadra di Vagnoni che invece in attacco ritrova Sansovini dopo le due giornate di squalifica e Mele in mediana. Il momento di appannamento però c'è ma aver tenuto botta nel periodo complicato può dare ulteriore spinta verso il rush finale di campionato. Altro impegno interno è quello del Giulianova che non vince dallo scorso 24 novembre 4-1 interno al Vasto Girardi. Da quel momento in poi tre sconfitte e cinque pareggi di cui quattro consecutivi. E domani invece arriva l'Olimpia agnonese formazione e rivelazione del campionato. Quinta in graduatoria a 35 punti e in grado di mettere in mostra anche talenti molto interessanti. Il pareggio di Montegiorgio Beffardo per come arrivato priverà del grosso anche di Nazale al centro della difesa. Mano pesante del giudice sportivo tre gare di stop per l'ex Francavilla. Quello arretrato peraltro è reparto critico soprattutto perché Diamutene non sta rendendo come ci si aspettava. Ma giocare sul terreno amico a questo punto della stagione deve essere un fattore per provare ad uscire dal lotto delle squadre che spareggeranno per conservare la categoria. Esordio in trasferta per Massimo Silva, neo allenatore della Vastese. Con la San Giustese il via al nuovo corso dopo il divorzio con Marco Amelia consumato dopo la sconfitta all'Aragona con il Campobasso. Abbiamo fatto una settimana intensa e quindi domani spero che già si possano vedere le prime buone cose, le prime indicazioni. Spero proprio che anche i ragazzi abbiano una bella reazione per fare una partita tosta. Stanno soffrendo, hanno cambiato anche loro l'allenatore poco tempo fa, però calcio e calcio noi dobbiamo fare il risultato anche noi, dobbiamo fare la prestazione. Io quindi spero proprio che alcuni giocatori di qualità che magari ho io possano risolvere la partita. La notizia delle ultime ore però è il passaggio del giovane Nicolò Cavuoti al Cagliari, il ragazzo cresciuto nella Virtus Vasto, società di calcio giovanile, si è messo in evidenza in questi mesi di esperienza in bianco-rosso collezionando 18 presenze in Serie D. Grande soddisfazione della dirigenza e a distanza di 30 anni dopo Mario Lemme un giocatore bianco-rosso approda in un club di massima serie. Silva con la San Giustese sarà privo di Alonzi, anche lui squalificato per tre giornate, e in mezzo al campo di Francesco Esposito, vero faro della manovra aragonese. Trasferta al nuovo Romagnoli per il Pineto, di fronte la squadra più in palla del momento. Il campo basso di Mirko Cudini viaggia come un treno, 10 vittorie e tre pareggi nelle ultime 13 partite. Un rullino impressionante che ha portato i molisani a meno uno dalla Matelica. Rosso-blu senza Martino, espulso a Vasto sei giorni fa, assenza molto più pesante per il Pineto di Amaolo, privo di Marianeschi in mezzo al campo, ma che deve riconquistare a tutti i costi il piazzamento play-off insidiato proprio dall'agnonese. Noi, come ho detto in altre circostanze, andiamo alla cerca di una prestazione importante. E a maggior ragione, contro una squadra forte come il Campo basso, dobbiamo ricercare una prestazione importante. Poi il risultato è sempre figlio della prestazione, speriamo che questa volta qualche episodio sia a nostro favore. La squadra più in forma del momento, ha fatto più punti del notaresco, le ultime 13 partite mi sembra che ha fatto 10 vittorie e 3 pareggi. Una squadra importante che è stata costruita per fare un cambiato importante, quindi forse in questo momento la squadra più in forma del momento. Infine l'Avezzano, che ha dato segnali confortanti col notaresco domenica scorsa. Non è arrivata la vittoria, è vero, ma la formazione di Antonio Meco Monaco pare rinvigorita e malgrado la posizione complicatissima di classifica si gioca a buona parte delle sue chance al Carotti contro la Iesina per uno scontro diretto in piena regola. Qualche ora fa è arrivato anche il via libera per il trasferimento della punta romena a Ciolacu. Leoncelli, fanalino di quota a quota 12 punti, un successo esterno dell'Avezzano, che manca l'appuntamento con i tre punti dal 10 novembre scorso, trasferta anche in quel caso col Porto Sant'Elpidio, può dare nuovo slancio ad una rimonta comunque molto difficile. E' tutto per questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.